Altro argomento Ivan perché infilarsi la muta o sfilarla sono due momenti importanti, generalmente quando esci dall'acqua sei bagnato e quindi levarsela è relativamente facile, i grandi campioni a volte tagliano un pezzettino di muta, fatelo solo se avete budget per poterlo fare o se siete sicuri di farlo bene, ma la vestizione è una delle cose più complicate perché magari fa caldo, sei sudato, cosa bisogna fare? Allora intanto prendersi il giusto tempo per farlo perché spesso si fa di fretta quindi bisogna calcolare dalla partenza della propria gara quanto tempo, anzi darsi un po' più di tempo, proprio perché è fondamentale indossarla bene, quindi indossare prima bene le gambe andando un po' alla volta, essendo un materiale molto elastico si tende, l'ho visto chi ha le prime armi, tende a tirarlo come se fossero dei pantaloni normali come il jeans che indossiamo, in realtà quello non è così elastico, se io tiro dall'alto non mi viene su niente, si allunga soltanto, allora pian piano portarla su fino bene in vita e dopo indossare le braccia e le spalle, bisogna lasciare più materiale sulle spalle perché se io allungo tantissimo la muta quando allungherò il braccio per nuotare dovrò fare molta più fatica perché si allunga tutto il materiale, quindi è molto importante avere più materiale sulle spalle, quindi addirittura salire un po' oltre i polsi, salire un po' oltre la caviglia, non indossarla fino alla caviglia, in alcuni casi viene tagliata quello per sfilarla più velocemente. Anche perché le mute sono di misure standardizzate, quindi la L potrebbe andare bene per due atleti, magari anche di altezza differente, ma di struttura molto simile. Magari poi ci sono persone che sono molto lunghe e quindi ognuno ha il suo metodo per indossarla, bisogna provarlo prima in allenamento, questo è sempre il consiglio da fare, magari una volta in piscina di nuotare con la muta, capire come indossarla al meglio, prendere dei riferimenti anche, quindi fino a dove arrivare con le cuciture, magari sono delle cuciture che ti fanno riferimento per il ginocchio, Un po' come la zona cambio. Ma sì, sì, prendere i propri riferimenti. Anche qui, molto veloce, vaselina o sacchetto di plastica? No, allora, per indossarla ai piedi io tengo sempre le calze, le calze aiutano perché fanno scivolare benissimo il materiale e una volta che tanto ce le hai su prima, le tieni su, indossi la muta, poi le togli. Poi il sacchettino di plastica ti può aiutare per infilare anche le braccia e la vaselina invece serve per evitare le abrasioni, quindi collo fondamentale soprattutto in mare, perché l'acqua salata fa tantissima abrasione, si vede gente uscire, e poi anche per sfilarla, quindi cospargere le gambe di vaselina, la parte finale della muta è fondamentale perché esce meglio la muta. Tutto questo è nei consigli che hai dato sulla luce. Sì, 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 ci sono nell'articolo.